Il management dell'innovazione, la gestione dei processi innovativi è un po' il nostro tema storico che abbiamo iniziato vent'anni fa ed eravamo piuttosto originali allo stato dell'arte. Col passare del tempo abbiamo consolidato il tema della gestione dei processi innovativi nelle imprese nelle istituzioni nei territori e su questo tema si sono innestati altri temi che cerchiamo sempre di interpretare nei loro aspetti più innovativi per esempio la gestione dell'energia la gestione dell'ambiente le politiche industriali il trasferimento tecnologico per cui il management dell'innovazione un po il tema ombrello il tema storico del nostro gruppo e ora abbiamo innestato vari sotto filoni che ci sembrano altrettanto attuali. Con chi lavorate chi sono in pratica i vostri partner? Direi che nelle nostre discipline gestionali abbiamo una certa fortuna, in che senso? Perché riusciamo a lavorare contemporaneamente con diversi soggetti, con diversi stakeholders che sono per noi di interesse, mi spiego meglio. Tradizionalmente l'università come mission deve puntare a sviluppare attività di ricerca scientifica e pubblicare questa attività di ricerca scientifica sulle riviste nazionali e internazionali, allo stesso tempo deve interagire con gli studenti nella formazione, però noi siamo anche facilitati dal poter interagire con molta utilità e concretezza con le imprese e con le istituzioni, perciò i nostri interlocutori sono tutti questi insieme e l'interagire con uno di questi interlocutori non toglie valore ma anzi aggiunge valore all'interazione con gli altri. Ora quali sono i vostri obiettivi di ricerca? Ma allora, come dicevo prima, abbiamo questi filoni che abbiamo ben individuato. Noi siamo un gruppo piuttosto esteso ma non siamo un gruppo numerosissimo come nelle grandi università italiane, perciò dobbiamo fare delle scelte. Le scelte sono un po' quelle che abbiamo detto, un filone energia, ambiente, gestione dei rifiuti, corporate social responsibility, un altro filone open innovation, ricerca e sviluppo, trasferimento tecnologico, anche un altro filone sulla scienza dei servizi. Ecco, su questi filoni noi vogliamo sviluppare una massa critica di finanziamenti, perché questi sono momenti difficili per l'università, perciò dobbiamo essere abbastanza bravi nel fundraising, ma allo stesso tempo vogliamo aumentare la nostra visibilità, il nostro impatto sulle riviste internazionali. Ma da chi parte l'idea di un filone, di un progetto di ricerca? Ma direi che non esiste una soluzione unica, talvolta sono le imprese, soprattutto le grandi imprese che ci suggeriscono dei temi e noi ben volentieri accogliamo i loro suggerimenti, talvolta invece siamo noi che facciamo delle proposte a delle imprese o a delle istituzioni, degli enti pubblici. In alcuni casi poi rispondiamo invece a dei bandi europei sui quali concorriamo e allora in quel caso il bando è già definito e noi dobbiamo metterci un po' la nostra creatività nel rispondere alle loro specifiche.